Don Puppet camminava verso casa, tranquillo, dopo una passeggiata. In mano aveva il libro di fanfictions che amava leggere da solo. Passava le ore a scippare le coppie su quel libro. E senza nessuno che commentasse, era soddisfatto del suo massatelico. Proseguendo, scoprì due figure escure alla fine del percorso. Percorriva ogni sera quella strada, perciò fu sorpreso di trovarci qualcuno appostato. Avvicinandosi, notò dei particolari inquietanti. I due erano ormai che portavano degli occhiali. CMLG pro hashtag 420blazer. Don Puppet cammini che erano dei bravi, avvidei dei criminali a servizio di un sinistro. Il bravo odorato lo vede e gli riposse la parola. Che sei tu? Oh io sono solo un prete che torna da una passeggiata. Qual è un libro di fanfictions? Oh figo, ho fatto fatto! Stringhi! Eh, scusa conti. Il bravo con del freddy si riposse di nuovo ad On Puppet. E sei quello che deve celebrare il matrimonio tra Chica Chicken e Bonnie Bunny? Sì, sono io. Problem? Oh sì, questo matrimonio non si farà l'ho legata e perché no? Ordini di Don Puppet, se lo Celebrity smonterà. Non fate decise di più, per dire che questo non è vero a farci smontare. I due bravi scogliere, non fate forse a casa sua. 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 Grazie.